Protagonista al Festival della Dieta Mediterranea, nell'ambito della serata dedicata ai biodistretti, alle aree protette, anche la referente nazionale di lega ambiente per le aree protette Antonio Nicoletti. Noi crediamo che il biodistretto sia uno strumento utile soprattutto alle aree protette, perché le aree protette devono garantire sia la conservazione della natura, della biodiversità, ma devono anche essere attivi nelle attività economiche e l'agricoltura è un pezzo fondamentale dell'economia del Cilento. Perciò noi siamo convinti, per questo promuoviamo la nascita non solo del biodistretto del Cilento, ma più in generale i biodistretti in giro per l'Italia, perché crediamo che siano utili anche per dare una mano alla piccola, piccolissima agricoltura, perché spesso e volentieri le risorse finanziarie, anche quelle europee, arrivano ai grossi imprenditori, ma ai piccoli rimane poco e soprattutto sono quelli che devono essere più di altri aiutati, perché sono quelli che più sono bravi a mantenere la biodiversità. Come si può fare più nel concreto? Ma nel concreto noi stiamo chiedendo che il parco individui delle misure sulla conservazione della biodiversità, ma che siano fortemente incentrate sulla valorizzazione dell'agricoltura biologica innanzitutto, sull'agroecologia, perché l'agroecologia è la pratica che più di altre in campo agricolo aiuta a mantenere la biodiversità, a frenarne la perdita, ad essere adeguata al cambiamento climatico. Quindi su questo speriamo che anche il parco sia capace nella prossima programmazione comunitaria di giocare un ruolo. Avere delle risorse proprie, ad esempio, come fu qualche anno fa con i PIRAP, può essere utile per i parchi, per i parchi, il parco del Cilento in particolare, perché ha una dotazione agricola significativa, per dare un aiuto concreto ai piccoli produttori e all'agricoltura che salva la biodiversità. Tra i temi centrali della serata, ovviamente il ruolo svolto dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e alla Burni. A rappresentarlo c'era l'esponente del Consiglio Direttivo, Vincenzo Inverso. Noi lo stiamo facendo con azioni concrete, promuovendo una serie di iniziative che vanno nella direzione proprio di favorire i biodistretti. Oltretutto ne stiamo animando uno, che è stato promosso da Confagricoltura, ma a cui il parco ha dato da subito la disponibilità, e che riguarda l'area della Piana del Sele dei Picentini e del Parco Nazionale del Cilento, che si candidano a formare praticamente un distretto agroalimentare bio. Sicuramente una notizia molto importante, che si inserisce in un contesto legato all'ambiente, come quello del Festival della Dieta Mediterranea, ormai un appuntamento consolidato nella Cilento. Sì, sicuramente questo della Dieta Mediterranea è un grande evento, di cui bisogna riconoscere i meriti agli organizzatori, al Comune di Pollica, che oramai anima questo evento da diversi anni. Ma c'è anche da dire una cosa, quest'anno ricade in un anno particolare, perché è l'anno del cibo, e quindi mettere al centro la Dieta Mediterranea significa, voglio dire, candidare questo territorio. E noi, come Ente Parco, abbiamo messo a disposizione il nostro centro della biodiversità di Monti Sani, per ospitare il CNR della Dieta Mediterranea Mondiale. Quindi portare i più grossi studiosi, le più prestigiose università, i conoscitori della Dieta Mediterranea, a studiarla qui, dove la Dieta Mediterranea è nata e vive, ed è intorno a noi, insomma.